Sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sulla 2 del Mediterraneo, all'altezza dell'uscita di campagna, un toro ha invaso la corsia in direzione sud dell'autostrada, creando paura tra gli automobilisti, che si sono trovati all'improvviso il grosso animale dinanzi alle loro auto, le quali viaggiavano anche a velocità sostenuta, trovandosi su un'arteria autostradale. Due i veicoli che hanno investito l'animale che inevitabilmente è morto sul colpo, ma l'impatto con il toro ha provocato anche il ribaltamento di una vettura. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone a bordo delle due vetture coinvolte nel sinistro, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Intanto nel piazzale dell'area di servizio di campagna è stato trovato anche un altro bovino, mentre vagava impaurito, probabilmente quest'ultimo era insieme all'animale investito. Sul posto gli agenti del COA di Sala Consilina e gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Eboli, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco.